Sarebbe bello lasciare un segno, non lo so, è una domanda che non mi sono mai fatto. Cerco di rendere il mio lavoro il più serio possibile. La ricerca della verità è quello che ogni uomo, credo, faccia per cercare di capire. L'arte del resto è una ricerca che l'artista fa per cercare di capire, è una ricerca della verità in un senso. Bellezza perché il mondo deve essere reso più bello, non più brutto. Credo che ogni essere umano abbia il dovere morale di cercare di lasciare i posti di un mondo migliore. Cosa non facile, ma l'intento credo debba essere quello. E dare un senso proprio poi a quello che si fa, a quello che sto facendo, cercare di capire perché sto facendo questa cosa. Quindi in realtà è una risposta al quale non ho delle filosofie particolari da raccontare. Non so che cosa lascerò nella storia. Io cerco di fare il lavoro col massimo della mia coscienza, con la poesia che riesco a fare, con la maggiore correttezza morale possibile, culturalmente il più corretto possibile. Non mi piacciono i sotterfugi, non mi piacciono le strade corte, solo per far meno fatica. La fatica non mi preoccupa, è un problema che viene in secondo piano. Cerco di dare prima di tutto un senso a me stesso, quello che sto facendo, ma credo lo faccia ogni artista. Poi se rimarrà un segno nella storia, lo deciderà la storia, non lo decide l'artista. Credo l'artista si muova sulle proprie convinzioni e cerchi di fare le cose con il massimo della serietà. Quello che vorrei sicuramente è quello di, attraverso il mio lavoro, poter rendere il mondo migliore.